Ci sono alcune cose che non possiamo comprendere razionalmente. Cerchiamo delle risposte. Abbiamo raschiato la superficie. Voglio conoscere la verità su mia figlia. Mio fratello. Mia sorella. Nostro padre. Cosa pensi di aver visto quella notte? La nostra specie sa essere sadica e crudele. I miei sogni bizzarri divennero più sinistri. Mi manca lui. Mi manca tutto di lui. Era scomparso. Era totalmente fuori zona. Il corpo di Pat. Cos'era successo? Compresi subito la gravità della situazione. Li aveva rapiti. Rilevammo delle impronte di 53 centimetri. Parevano delle lingue di fuoco. È stato spaventoso. Qualcuno era nella stanza poco prima del check-in. Ci sono persone che sanno come sono andati i fatti. Spero che trovino il coraggio e parlino con noi. In un caso irrisolto, vuoi fare qualcosa per la famiglia? Noi chiediamo giustizia.